Tiziana e Alberto lasciano uomini e donne lui, io abbandono, vieni via con me. Trionfa l'amore nello studio di uomini e donne. Tiziana e Alberto, protagonisti del throne over, hanno deciso di lasciare insieme il programma per viversi la storia d'amore lontani dalle telecamere. Nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, il cavaliere ha letto una lettera alla dama facendo commuovere tutti i presenti, subito dopo un romantico ballo, hanno salutato lo studio. Alberto, prima di lasciare il programma con Tiziana, ha letto una lettera scritta per la dama al centro dello studio. Sono emozionato, ho fatto la notte in bianco per scrivere tutto. Un onore per me essere qui davanti a voi donne e soprattutto davanti a te. Tiziana. Ci siamo conosciuti prendendo il caffè, ti ho vista, ti ho offerto il caffè e tu mi dicesti no. Perché mi avevi dato il numero e io non lo avevo preso. Io ti diedi il numero di telefono. E tu mi dicesti di dirlo alla redazione. Mi hai chiamato, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a uscire. Bellissimo. Ristorante di pesce o pizzeria, abbinato tutto a bacetti che piano piano sono aumentati. Sono uscito con altre donne per mettermi alla prova. Prove per me simpaticamente fallite. Allora ho detto dentro di me basta, lei ha tutto, è simpatica, semplice, lievemente complicata. Gelosa è appunto giusto, sensuale e bacia bene. C'era un po' tutto. Mi sono chiesto, cosa cavolo aspetti a chiederle di uscire dal programma e se lei accetta stasera si va a Prato a cena. Poi se vuole rimane da me. Prima di rispondere, io abbandono, Conte sarebbe perfetto. Il cavaliere ha poi salutato i suoi fratelli, le cognate, i suoi amici, i figli con i rispettivi partner. Poi lo studio, facendo sorridere tutti con la sua eccentricità. Però, aspetta. Non è finita. Che fai vieni via con me o vado via solo? Ho voglia di piangere, c'è una cosa per te. Una rosa ha concluso prima che entrasse il fiore per Tiziana che, tra le lacrime di commozione, ha risposto con un sì. Sono emozionata. Io ho conosciuto Alberto un mese e mezzo fa, leggerezza e anche avere una persona che ti fa stare bene. Che ti alleggerisce i momenti della vita, e lui me l'ha data. Lui ride sempre ma è molto profondo. Mi sta dando tanto. Ti voglio bene, è stato questo il commento di Tiziana prima di alzarsi per abbracciarlo. Durante il ballone telecamere del dating show hanno poi ripreso i presenti del partare emozionati. In lacrime. Dopo aver lasciato lo studio, la dama ha raccontato alla redazione, mi sento felicissima perché non provavo emozioni così forti da tanti anni. Alberto in poco tempo è riuscito a dirmi cose che non ho mai sentito dire così. Mi ha trasmesso cose che da tanti anni non provavo. Grazie. 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 Grazie.